salve a tutti ragazzi e bentornati su mio canale io sono dragon rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di kena bridge of spirit dobbiamo andare ad aiutare l'artigiana ad iva dobbiamo però superare questa porta e per farlo la tizia qui ci ha dato un nuovo potere cioè il lancio delle bombe praticamente noi possiamo adesso lanciare le bombe del tipo così di materiale e fare questa cosa qui di far volare no e maledizione non sono riuscito a farcela quindi dobbiamo fare una cosa del genere e io con la mia tantissima bravura anche perché il tempo è quello che è ok qua siamo arrivati ci sono dei nemici da abbattere ok uno è morto dove l'altro l'altro mi si sta volando ma non so dove si è impigliato dove si è impigliato l'altro si è incastrato da qualche parte bene mi fa piacere va bene andiamo da questa parte nel frattempo naturalmente non possiamo fare nulla ok riaffrontiamoli ok bene ok abbiamo liberato un po di zone qua posta spirituale consigliere questa posta al villaggio ok qua dentro mi sembra che non ci sia nient'altro d'accordo allora sì allora sì ok apriamo questo sembra che qua non ci sia nient'altro d'accordo non si può andare giusto o no ok questa zona è fatta andiamo di qua e saliamo ok ok non vedo niente qui qua c'è un bavile ok un po di cibo per i rot ok in questa porta possiamo entrarci dentro giusto allora di qua in realtà si va da quella parte aia aia mi sono fatto male da solo ok ok là è caduto tutto va bene però qua c'è qualcosa apriamo ottimo ottimo mi sembra che non ci sia nient'altro allora allora qua c'è niente? no quanto pare qua è stato inutile venire perché non c'è una mazza bene no aia vabbè cadete dai siamo scesi giù qua non c'è niente va bene ah ok da qua praticamente non possiamo ecco siamo morti bene ci è venuto il masso addosso va bene quindi se cadiamo non possiamo fare niente ok ok andiamo qua se no tra poco cadevamo no maledizione sono caduto di nuovo eh vabbè da qua non si può vi saliva c'è però di qua si ok quindi riproviamoci eh ecco ecco ma ecco 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 accol ecco 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 niente da fare vabbè e là si sono tutti alzati mettiamoci a riparo è difficile è difficile non è per niente facile niente di poco dobbiamo rifarlo vabbè non è facile almeno io non mi trovo tanto bene guardate di volte come nuotano ci riproviamo e dai e vabbè la mia incompetenza è incredibile allora ci riproviamo niente ok ok ce l'abbiamo fatta mamma mia devo dire che non è per niente facile c'è niente qua molto scuro devo dire ok qua c'è la cosa qua da sistemare in realtà non vedo nient'altro non credo che da questa parte si possa andare oltre non vedo ok uno siamo riusciti a farlo qua cosa ci abbiamo ovviamente nulla ok siamo riusciti vorrei tornare un po' indietro allora io non so se qua effettivamente c'era qualcosa ragazzi naturalmente qua aspettatevi esplorazione perché ok qua siamo tornati al punto di prima da qua però si può andare qua c'è qualcosa da aprire con del cibo lì c'è un'apertura che si esce fuori ma altro non c'è allora io direi che possiamo anche scendere no ok allora andiamo di qua e niente rimane qua vabbè tanto alla fine siamo scesi così ok vediamo torniamo un po' indietro perché comunque ci sono altre zone tipo questa aia eh vabbè allora riproviamoci qua apparentemente non possiamo andare da nessuna parte eh no ok cerco di di valutare un po' quindi fammi capire questo a cosa serve eh ok qua c'è altra roba ok oh oh ragazzi prevedo uno scontro vabbè aia ci ha fatto male aia Grazie a tutti Dove è andato? Ahia Ah ok ho capito come si uccide Ok Di sotto ne arrivano altri Aia Ok È rimasto un altro Ok perfetto Ce n'è un altro Oia Adesso non bel po' eh Ok Ok uno l'abbiamo fatto fuori Ahia Ok 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 Abbiamo preso tutto O meno abbiamo ucciso tutti Ottimo Abbiamo fatto fuori tutti qua eh Non era facile Ci diamo una piccola esplorazione Abbiamo fatto un bel po' Ok C'è una cassa qui Ok Ok Non c'era nient'altro mi sembra Quassù è da dove siamo venuti Ok Ok Dobbiamo salire sopra Però sono tutti girati al contrario Ok Ehm Come fa a girare Ok 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 No Dove vai Maledizione Ok Aspetta che il tempo sta finendo Ok Ho capito come fare Lo rivacciamo eh Ehm Eh no Si è caduta Come la Ehm Ok Ok Vediamo qua Ci sono delle casse Che apriamo Attenzione Un coleottero Bene Nuovo Pello Disponibile Eh che cavolo Sono caduto fino a giù Spostati che sta per crollare tutto No Eh dai Ok Ok Torniamo un attimo qua Ok 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 E' un po' difficile qua salire fino a là Sto avuto con le Con le robe a tempo che io odio E' niente siamo caduti Allora quello girandolo Bisognerebbe arrivare fino a là Allora zecco mezza volta Allora Ho capito come fare E però Ci toglie Ok 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 capito come fare Ok perfetto E vabbè ci vuole la sua E vabbè però se inizi così Chiena che non salti Poi ti incasti qua sotto Non andremo molto avanti Aspetta Ok Fin qua ci siamo arrivati Facciamo cadere così Ok Ce l'avevamo fatta Ok Da qua si scende E noi continuiamo E' stato un po' un'impresa Però Dobbiamo abituarci Allora vediamo un po' qua su cosa c'è Ok Vediamo qua Allora Qua sotto c'è Dove siamo arrivati Praticamente Dove siamo venuti Ok perfetto Non vedo Altro Quindi possiamo anche scendere Facciamo questa parte A questo punto Non vorrei perdermi qualcosa Però Ok Siamo riusciti a fare Abbiamo fatto tutti e due I punti Dovemmo iniziare A aprire la porta A questo punto Mi scusi Ma io come scendo No Giusto per sapere Non vediamo Non vediamo Allora Non vediamo no non arriva fino alla perfetto allora scendiamo giustamente ci facciamo la strada che abbiamo fatto al ritorno e non possiamo farlo invece però possiamo andare di qua se mi sto affaticando e poi va di qua mi scusi eh ma qua vabbè abbiamo fatto il coso parliamo con lei ok bene ragazzi porta aperta credo che sia successo qualcosa in un tanto positivo è tutto in fiamma ragazzi è tutto in fiamme e non so cosa sia quello allora ragazzi io direi che ci possiamo fermare qui con questo episodio abbiamo superato la porta naturalmente naturalmente devo prendere un po' la pratica per quanto riguarda le bombe l'utilizzo il coso al tempo che io odio e quindi abbiate pazienza detto questo ragazzi io direi che ci possiamo fermare qui per questo episodio se vi è piaciuto se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale seguitemi sulla mia pagina instagram sul canale twitch pagina facebook troverete il link in descrizione seguitemi mi raccomando instagram perché troverete lì i titoli che arriveranno sul canale prossimamente e noi ragazzi detto questo ci vediamo al prossimo episodio di Kena Bridge of Spirit alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao a tutti